Se fossero tanta soffra... Sì! Eh... ... Allora ragazzi, guardate... ... Allora ragazzi, qui ci troviamo... ... ...a Notre Dame, quindi vicino a casa. Meno male che stanno togliendo tutte queste imparcatura che hanno fatto per gli 850 anni. Un anno di rottura di coglioni con questo... ... ... Più alto, più alto! Oh! Che saluto! Che saluto! Che saluto! Allora... E quindi stanno togliendo... Ah? Ah vai! ... 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